C'è un po' di allerta sui tagli all'università, oggi siamo in università e soprattutto un po' di confusione. Vuole fare un po' di chiarezza sulla questione? Forse la confusione deriva dal fatto che si parla di decisioni non ancora assunte e quindi comunicheremo quello che il governo avrà deciso nella sua collegialità. Quello che posso dire, ma l'ho già detto in altre occasioni, è che il mio ministero ha fatto un diligente e accurato lavoro di previsione di risparmi, più che di tagli parlerei di risparmi, che sono ancora possibili, anche se ovviamente costano, perché risparmiare è sempre un'operazione complessa e selettiva. Stiamo cercando, abbiamo cercato di non intaccare, credo con successo, le voci importanti, quindi il fondo per le università, il fondo per la ricerca, tutto quello che per la scuola serve al miglioramento della qualità dell'offerta formativa ha maggior ragione adesso che siamo in odor di iniziare con questo nuovo grande progetto della buona scuola. Quindi scegliere dove investire e scegliere dove risparmiare è la cosa più importante che la politica possa fare e in questo momento è importantissimo che lo facciamo tutti. Grazie.